segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te avete visto i nostri ospiti ma iniziamo salutando stefano bonaccini buonasera buonasera neonominato presidente del partito democratico per essere presidente della regione della romagna nella in questa trasmissione si fronterà con un importante esponente dei fratelli italia ma intanto ci dica come sta governando giorgia meloni ci ha colpito una frase della sua ultima conferenza stampa cartello 11 e giorgia meloni ha detto appena si affronta un problema se ne apre un altro non sono stata fortunata l'ha colpita questa frase sì mi ha colpito perché dare sempre la colpa al fatto o a qualcun altro come stanno facendo significa insicurezza e debolezza sarebbe come che io avessi dato avessi fossi lamentato per il terremoto che colpì l'emilia da 12 miliardi di euro quella striscia di emilia oppure per essere stata la prima regione dopo vuani insieme a lombardia e veneto per la drammatica pandemia che abbiamo vissuto bisogna dare risposte non trovare giustificazioni sembrava che sta governando molto male perché sta governando male ecco perché guardi e i temi dovevano essere fondamentalmente quando sono partiti la guerra e l'economia hanno in qualche modo fatto nascere il tema immigrazione o li ha travolti dati i numeri sempre maggiori di questo fenomeno è ma molto male perché ad esempio sull'immigrazione stanno facendo cose senza dare un criterio un senso a quello che fanno quando per anni dici prima gli italiani o porti chiusi e poi ti trovi a non saper gestire tutto quello che sta accadendo guerra le ong e poi ci ritroviamo dopo un anno che sono più che triplicati gli sbarchi e la gente muore in mare e faccio un altro esempio gli slogan per avere la benzina con le accise tolte e molto bassa e poi ci siamo ritrovati con la benzina più cara d'europa ma soprattutto la cosa che mi colpisce molto sono i tagli alla scuola e alla sanità quando il covid ci avrebbe dovuto insegnare a proposito di tragedie e pandemie che bisognerebbe investire di più sulla sanità territoriale l'assistenza domiciliare l'assunzione di medici e infermieri che sono carenti in tutta italia senta bonaccini adesso parleremo di tutto questo nel pidille che fa compensa la scline no guardi noi abbiamo una segretaria si chiama ellie scline l'hanno deciso gli elettori credo però che anche per il largo consenso che ho ricevuto maggioritario tra gli iscritti poco meno del 50 per cento tra gli elettori io ho la responsabilità il dovere e credo e spero insieme a tutti quelli che mi hanno votato di dare una mano alla neo segretaria scline di togliere le magliette dei tifosi delle primarie indossare l'unica maglietta che oggi dobbiamo indossare che quella del partito democratico perché gli avversari stanno a destra non dentro di noi e io credo tanti nostri elettori ho sofferto in questi anni per le troppi divisioni interne al pd mentre noi dobbiamo lavorare insieme e io mi auguro che sapremo lavorare bene insieme alla presidente bonaccini resti con noi perché sta arrivando un rappresentante fabio rampelli del fratelli italia con cui si confronterà noi torniamo sul governo perché tutto fondamentalmente cambia dopo un cutro poi che mi pare che le risposte